Salve a tutti, dopo tantissimo tempo tornano le analisi di un gran premio, è passato un anno dai primi due episodi, poi accantonati da sottoscritto per questioni di tempo, riguardo proprio dati, dati e soltanto dati. Dovete sapere che io adoro il punto di vista strategico della Formula 1, ma anche e soprattutto capire dove sono posizionate le vetture, in modo da farsi un pochino un'idea di quello che potrebbe succedere durante la stagione, e quindi portarvi anche contenuti coerenti con l'andazzo della stagione. Per fare questo video ci ho messo almeno un'eternità tra raccogliere tutti i dati, scrivere tutti i dati su fogli Google, tra l'altro, quindi la qualità non sarà eccelsa, ma signori, a noi interessa quello che i dati dicono, non tanto il come ve lo servo, come se fossimo, non lo so, a tavola con il servizio di 45 anni fa, considerazioni e paragoni tra il 2022 e il 2023 di tutti i piloti che sono rimasti tra il 2022 e il 2023 nello stesso team, e tutti i team, chiaramente. Quindi ho veramente tante altre cose che adesso vedrete, però mi raccomando, un bel commento, un bel mi piace, e valutate anche le iscrizioni, magari, Signori, l'anno scorso con questi video siamo arrivati in tendenza, mi pare al 22esimo posto, con un video tecnico, quindi vediamo quello che riusciamo a fare quest'anno, siamo un pochino di più, e so che questo video, anche uscendo qualche giorno dopo, potrebbe comunque essere interessante. L'obiettivo è di portare tutto questo, sempre ogni gran premio. Sarà un'impresa, però vedrò quello che riuscirò a fare. Ma direi bando alle ciance, e vi faccio vedere con l'Alfa Romeo un esempio di quello che andremo a vedere nella prima parte, perché poi ce ne sono altre. Preparatevi perché ci sono un sacco di valori estremamente interessanti, alcune sorprese e alcune purtroppo conferme, non vedo l'ora di mostrarvele. Allora, con Alfa Romeo abbiamo due piloti che sono rimasti dal 2022 al 2023 gli stessi, quindi abbiamo ben due esempi, due paragoni da poter fare tra il 2022 e il 2023. Quindi ho preso il tempo di qualifica migliore che hanno fatto registrare tra Q1, Q2 e Q3, di Bottas e di One New Joe in questo caso, la posizione in qualifica di questi due anni con il distacco dalla P1, la posizione finale in gara, il distacco, e qua c'è un asterisco, adesso vi dico perché, e anche la strategia. Questo è quello che dice l'immagine superiore, mentre nell'immagine inferiore abbiamo la comparazione del costruttore, quindi Alfa Romeo 2022 e Alfa Romeo 2023. Il miglior tempo del 2022 con il miglior tempo del 2023, il pilota, lo metto tra parentesi, Bottas per esempio ha fatto il tempo migliore in tutte e due le situazioni, la comparazione nel miglior posizionamento, la comparazione nel minor gap del miglior pilota, Alfa Romeo, dal leader, i punti raccolti nel 2022 confrontati con il 2023 e ultimo ma assolutamente di fondamentale importanza, la media dei passi gara, perché i punti non si fanno al sabato, si fanno alla domenica. Amos, ma come fai con tutte le variabili del caso a prendere il miglior passo gara di quella scuderia e poi trascriverlo? Ecco, c'è una scritta, appunto, vedete nell'immagine, tra parentesi, dove dico cosa escludo, quindi escludo fondamentalmente safety car, virtual safety car, bandiere gialle, il primo giro, il tempo e box, e comunque anche duelli molto, molto, molto pesanti, tipo il duello Alonso e Hamilton è chiaro che abbia inflito non poco sui tempi, quindi vado ad eliminare quell'aspetto. Cerco di prendere i giri puri, quelli che veramente sono i più puliti, non dovuti a problemi che vi ho spiegato. È piuttosto difficile da fare, veramente complicato, infatti è il dato più tosto insieme a quello del gap, miglior gap, però ragazzi è estremamente gratificante, perché una volta che togli tutto lo sporco, come se stessi pulendo, non so, un'orata, arriva la parte figa, ovvero il passo gara nudo e crudo, e quindi il reale potenziale della vettura in questo Gran Premio. Voglio infine riportarvi all'asterisco che vi dicevo prima del 2022, che vedete appunto in sovraimpressione. C'è stato un problema durante il Gran Premio passato, del 2022 di Bahrain, ovvero che al Giro 46 è entrata la safety car, che ha completamente falsato i distacchi del Gran Premio, che era doppiato se sdoppiate, tutte cose. Quindi, prima del Giro 46 e prima eventualmente anche delle ultime soste di tutti i piloti, o meglio, quelli che avevano il passo gara migliore dei rispettivi team, ho deciso di prendere il gap dal leader, che in quel momento era Leclerc. Quindi, nell'immagine superiore vedrete i distacchi di Bottas e di Guanyu, in questo caso nel 2022 pre-safety car, e nell'immagine inferiore e nel minor gap dal leader, del miglior pilota Alfa Romeo, ovviamente Bottas, calcolo senza la safety car quanto avrebbe dovuto prendersi. Dunque, era 51 secondi al Giro 42, sarebbero stati 96 secondi nel Giro 57, perché ovviamente Bottas girava molto più piano rispetto alle Clerc, con una media al Giro, che poi andremo a vedere. Spero di essere stato il più chiaro possibile. Questa parte di video, naturalmente di tutorial, su cosa andremo a vedere, non verrà spiegata nei video successivi. Naturalmente poi ci saranno le classifiche, dal primo posto al decimo posto, del miglior team o il peggior team, insomma, che ha migliorato il passo gara, ha migliorato la qualifica, ma adesso lo andremo a prendere anche singolarmente, perché mi piace vedere anche la differenza che hanno avuto i piloti tra loro e i miglioramenti che hanno avuto i piloti. Ad esempio, un dato molto importante è che Guanyu, dato che all'epoca era esordiente nel 2022, in un anno ha tolto un secondo, mentre Bottas ha tolto un decimo, quindi ci fa capire anche il potenziale di quest'Alfa Romeo, che andremo a vedere un pochino più tardi, mentre è da notare quanto si è migliorata nel passo gara. Il passo gara Alfa Romeo è migliorato ben di più rispetto alla performance in qualifica, quindi GG ovviamente all'Alfa Romeo, che si porta con un 1.387 di media, che non è per niente male andando a vedere anche poi i successivi risultati, insomma, degli altri team. Però in totale ha perso molto rispetto allo scorso anno, sia come posizioni che come punteggio, punti proprio in classifica. Ho anche messo la strategia di F1-22 e la strategia di F1-223, quindi la strategia che c'è stata di differenza, infatti, quindi potete notare quando fanno il pit, quando non fanno il pit, la gomma C1, C2, C3 e tutte queste cose. Da notare che il gap dal 2022 al 2023 è calato di oltre 20 secondi. Dunque la macchina ha avuto un miglioramento. Il problema di Alfa Romeo, vedendo anche proprio i risultati, le posizioni perse invece che guadagnate, è che altri team hanno migliorato. Passiamo all'Alfa Tauri, come vedete è rimasto soltanto Yuki Tsunoda, perché Piero ha cambiato team. Piero Gazeoso, che tra l'altro troveremo nell'Alfa Tauri 2022 come miglior tempo in qualifica, infatti, c'è Gas di Gasly, perché ha fatto il miglior tempo. Dunque non prendiamo il miglior tempo del pilota singolo, ma nel complesso l'Alfa Tauri l'anno scorso ha fatto il miglior tempo con Gasly. Va bene? Penso, spero che sia tutto chiaro. Quindi Tsunoda ha ottenuto un 32,7 nel tempo di qualifica l'anno scorso, migliorato di un secondo e tre. E qui, ovviamente, guardiamo come per Guan Yu Jo, che anche Tsunoda era un debuttante. Infatti, notiamo proprio una grandissima differenza. Una grande differenza che però non va ad esserci quando effettivamente vediamo l'Alfa Tauri nel 2023. Infatti, il Delta è di due decimetri a favore come tempo in qualifica, ma chissà, forse non è veritiero. Diciamo che l'Alfa Tauri forse ha una delle line-up meno performanti di Devri, deve un attimo carburare, naturalmente, di questa stagione. Quindi vediamo, forse è un dato fasullo? O forse no. Diciamo che due decimetri di vantaggio rispetto alla passata stagione è un valore un po' troppo basso. Ma abbiamo visto anche Bottas, che mi ha dato soltanto di un decimo in qualifica. Dunque, o il finlandese ha continuato a sbagliare ogni volta che usciva per fare il tempo sul giro, ma lui è anche molto veloce, oppure l'Alfa Romeo in qualifica non va tanto più forte quanto invece ha dimostrato di andare in gara. Dobbiamo comunque considerare dei piloti che non sono lì per caso. Dunque, Tsunoda lo dobbiamo considerare un pilota di Formula 1, lo dobbiamo considerare un gran bel pilota, un bravo pilota, o comunque un pilota capace di fare qualcosa in Formula 1. E dunque, i dati sono questi. Alla mano sono questi. Altrimenti non potremmo fare alcun dato e sfido chiunque a fare qualcosa del genere, o anche a leggere le telemetrie. Se ci si basa sul fatto che Tsunoda sia un brocco, Gasly invece no. Ok? Quindi, che sia chiara questa cosa, dobbiamo pensare che i piloti facciano il loro meglio in pista. Purtroppo l'Alfa Tauri però ha peggiorato ovunque, praticamente in ogni aspetto, tranne che sul minor gap dal leader, perché anche qui la media del passo gara è migliorata di ben 6 decimi. 6 decimi di vantaggio comunque sul passo gara, ripeto, ogni giro è come se la macchina di quest'anno andasse 6 decimi più forte, non è per niente male. Anche se purtroppo, ripeto, altri team hanno migliorato, infatti vedete che hanno conquistato 0 punti, hanno perso posizioni sia in qualifica che in gara. Tsunoda è arrivato a pochissimo da Albon che si è piazzato in P10. Vedete anche che, andando nella immagine in alto, il gap in qualifica, una volta erano P16, un'altra volta erano in P14, comunque il buon Tsunoda, ha tolto ben 6 decimi dal tempo della pole position del 2022 e del 2023. Vuol dire che Tsunoda sta migliorando e ha migliorato ovviamente in maniera esponenziale da un anno all'altro, dopo un anno di esperienza in Formula 1. Gasly comunque l'anno scorso era riuscito a fare un grandissimo tempo in qualifica che le ha consentito di partire in decima posizione, come vedete appunto dalla grafica. In generale comunque l'Alfa Tauri è un miglioramento, mi aspettavo però qualcosa di più, forse l'unica macchina da quale mi aspettavo meglio in questa stagione. Le altre tutto sommato erano come previsto, assolutamente, ma questa mi ha deluso, un po', un po' deluso, ma fa parte del gruppetto di media bassa classifica. Adesso andrò a vedere anche gli altri. Oh signori, Alpine, che dire dell'Alpine? Esteban Ocon è rimasto, naturalmente Alonso non è più in Alpine, ma è andato in Aston Martin, tuttavia nel 2022, vediamo nella schermata in basso, che il miglior tempo l'ha ottenuto Alonso. Dunque, andando su Esteban, tornando su Esteban, abbiamo un miglioramento di quasi 9 decimi in realtà in qualifica ed Esteban è un po' dell'esperienza, dunque ci si aspetta sempre il massimo da lui ed effettivamente un tempo del genere ci fa capire che l'Alpine è migliorata, non di poco. Tuttavia, siccome gli altri team non stanno a guardare, la posizione in qualifica, sì, è migliore di ben due posizioni, magari non sono tantissime, però per Esteban è stata una buona performance, anche se Alonso lo scorso anno si qualificò in P8. Il delta dalla P1 è rimasto piuttosto invariato, un secondo e due l'anno scorso, un secondo e uno, un 196, insomma, quest'anno. Dunque, diciamo che l'Alpine si trova esattamente, almeno in qualifica, dove era l'anno scorso, con il fatto però, con il problema che c'è un altro team, ovvero Aston Martin, che si è insidiata lì nelle prime 5-6 posizioni. Ocon non ha terminato il Gran Primo, per ovvie ragioni, in questo quest'anno, quindi non abbiamo un gap di fine gara e la posizione finale di gara di Esteban quest'anno, però abbiamo comunque il gap che ha ottenuto Gasly, perché Gasly dall'ultima posizione si è piazzato in P9, una grandissima gara di Pierre, e attenzione all'Alpine, perché è nella terra di mezzo. L'Alpine infatti è migliorato di 8 decimi, veramente 8 decimi, con due soste, ovviamente considerato il tempo di Gasly con due soste, adesso vi spiego perché, rispetto alla passata stagione. Gasly infatti è partito ultimo, ma ha fatto una grandissima gara, una gara fenomenale, perché oltre a guadagnare tantissime posizioni, è stato sempre in lotta, quindi prendere il passo gara di Gasly, non è assolutamente stato facile, quindi ha avuto tanti problemi, soprattutto all'inizio, mentre nel finale, anche montando un altro treno di gomme, infatti lui ha fatto tre soste, nell'ultima parte era con gomme soft, e letteralmente volato, era il migliore in pista nell'ultima parte, insieme a Verstappen e Perez, più Perez, infatti loro tre, insieme ad Alonso, erano gli unici quattro, a scendere costantemente sotto il 37, Gasly per più volte rispetto a tutti gli altri, e addirittura Gasly ha fatto anche un 35, che provava a essere il giro veloce in gara, rubato poi da Guanyu Jo, per ovvie ragioni chiaramente strategiche, però io ho scritto con due soste, vicino al delta, in basso a destra lo vedete, perché oggettivamente, se noi andiamo a prendere il passo gara di Gasly, non aggiungendo nel passo gara il pit stop, naturalmente chi è con gomma dura, è in netto svantaggio rispetto a chi monta, negli ultimi 15 giri, una gomma soft, questo quindi mi ha fatto pensare, togliamo la terza parte di gara, da parte di Gasly, ma consideriamo, di togliere 25 secondi, più o meno il tempo di fare il pit stop, di farlo andare con un'andatura regolare, con quello che stava riuscendo a fare, con le gomme dure, questo lo faccio perché altrimenti, come è successo nel caso di Norris, ha montato 5-6 mescole differenti, ed era fortissimo nell'ultima parte di gara, infatti era vicinissimo anche a chi stava lottando, nelle prime 6-7 posizioni, ma lui stava due giri dietro, quindi bisogna considerare questi fattori, e vedere quanto faceva con le gomme rosse, quindi con le C3, e quanto invece ha impiegato per fare la sosta, circa 25 secondi, dunque quello che fai, è di togliere lo stint con le rosse, e fare una media dei tempi sul giro, che aveva fatto con la C1, sottraendo giro dopo giro di 25 secondi, che si mangiava a Pierre, banalmente, con le gomme rosse, spero di essere stato chiaro anche da questo punto di vista, quindi il passo gara dell'Alpine, in realtà è molto interessante, prima del problema, dei problemi vari che ha avuto Ocone, infatti, non era così distante da Aston Martin e Mercedes, il problema per Alpine, che si trova nella terra di mezzo, è evidente, hanno migliorato di poco il gap dal leader, ma Gasly era sempre in fondo, quindi forse Ocone avrebbe fatto meglio, hanno peggiorato anche il loro punteggio, in classifica costruttori, però comunque l'Alpine, è più o meno stabile nelle sue performance, si può dire che K-Mag, sia stato il più deludente, in questo inizio di stagione, quantomeno in qualifiche, infatti, è l'unico pilota che andremo a vedere, spoiler, che non ha migliorato, rispetto alla passata stagione, quando in realtà, il buon Nico Hulkenberg, è sceso anche sotto al 31, infatti, vediamo in basso, come il Delta, si è a favore, del 2023, di quest'Aston 2023, di 6 decime e mezzo, rispetto al tempo di Kevin, Kevin ha commesso un errore, evidentemente, in Q1, infatti, è andato anche out, in Q1, anche se l'anno scorso, l'AS partiva con ben altri, insomma, programmi e pronostici, infatti, la posizione finale in gara, è stata del quinto posto, mentre, invece, in questo Gran Premio, purtroppo, non hanno nemmeno ottenuto un punto, dunque, 10 punti a 0, per farvi capire, hanno perso anche 8 posizioni, come miglior posizionamento in gara, perché da P5, passano a P13, miglior risultato ottenuto, da Magnussen, per l'appunto, e hanno perso anche, delle posizioni in qualifica, sebbene Hülkenberg si è arrivato in Q3, si è fermato, comunque, in decima posizione, hanno peggiorato, anche il minor gap, dal leader, perché hanno avuto, diversi problemi, diciamo, con la vettura, soprattutto, sul passo gara, infatti, e questa, e questo è un dato, veramente, molto importante, e indicativo, anche per le gare future, e soprattutto, per la filosofia, che la Haas, adotta, molto simile a Ferrari, la media passo gara, è solo di un decimo, migliore, un decimo, soltanto, migliore, rispetto alla passata stagione, una vettura, che comunque, l'anno scorso, è partita a bomba, ha fatto tutti i punti all'inizio, anche in Austria, e quest'anno, invece, si trova con zero punti, non è l'unica, a trovarsi con zero punti, però, sicuramente, è molto più da centro gruppo, centro basso gruppo, rispetto alla passata stagione, per farvi, capire, meglio, questi sono, tutti i dati, che si possono avere, rispetto all'anno scorso, della Haas, McLaren, la grande delusione del 2023, però, in realtà, si è memoria corta, perché, era già stata una grande delusione, nel 2022, ha iniziato in maniera disastrosa, lo scorso anno, ragazzi, in maniera che, veramente, così disastrosa, andando a rivedere i dati, non mi ricordavo, nemmeno così tanto, diciamo che, aveva così tanto deluso, l'anno scorso, che quest'anno, ci sono dei valori, addirittura migliori, e questo è sconcertante, infatti, possiamo vedere che, solo guardando Lando Norris, perché non c'è più Ricciardo, e il debuttante Piastri, non lo dobbiamo considerare, in questo momento, lo considereremo nel 2024, chissà, vediamo, il miglioramento c'è stato, di 6 decimi, in qualifica, il gap, dalla P1, è migliorato, infatti, da 2-1, sono passati a 1-7, bravi, complimenti, a loro, diciamo che, l'anno scorso, erano veramente in crisi, ed è normale, che tutti i team, abbiano migliorato, da un anno all'altro, con il gap dal leader, che è di circa 90 secondi, attenzione però, perché nella schermata in basso, vedete, il minor gap da leader, 2 giri, ma, dobbiamo calcolare, il loro passo gara, come scrivo qui, estremamente complicato, a causa dei molteplici pit stop, al netto di tutti i problemi avuti, diciamo che, si sarebbero aggirati, intorno agli 86-90 secondi, quindi, il passo gara, era quello, considerato, con 1,5 secondi, di miglioramento, dal 2022, al 2023, sul passo gara, di Lando Norris, dunque, considerando il miglior passo gara, avuto dalla Red Bull, quest'anno, la macchina, si sarebbe presa, circa 90 secondi, a netto di, zero problemi, ok, questo è un dato, molto, 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 difficile da tirar fuori, ma che, estraendo tutti i problemi, che hanno avuto, si riescono ad ottenere, il passo gara, così migliorato, è incredibile, però restiamo sul 39-0, che purtroppo, da quei piloti, e team che abbiamo visto, è il peggiore, al momento, questo vuol dire che, sì, la McLaren ha fatto un grande passo avanti, rispetto all'anno scorso, ma, quanto era già inguaiata, e, da non all'altro, non è cambiato assolutamente nulla, pazzesco, hanno migliorato addirittura, il posizionamento in qualifica, e sono rimasti invariati i punti, o meglio, i non punti, infatti, sono rimasti a zero, Williams con Alexander Albon, rimasto nel 2023, dopo la stagione, ottima, in, in quel del 2022, 1-2, il miglioramento in qualifica, grande, grandissima prestazione, comunque, della Williams, che è sempre quella vettura più bistrattata, quella che ha meno soldi di tutti, ma, comunque, che porta delle, delle belle vetture, delle belle vetture, a me piaceva più quella dell'anno scorso, come filosofia e tutto, ma l'hanno accantonata, forse, hanno fatto anche bene, perché, hanno faticato moltissimo, all'inizio della passata stagione, anche se, noteremo, che non erano gli ultimi, in, qualifica, allo scorso anno, c'è un team che ha fatto pure peggio, ed è inquietante, imbarazzante, come cosa, hanno migliorato anche la distanza, dall'anno scorso, insomma, rispetto al leader, da 2,1, a 1,7, miglioramento, della posizione finale, in gara, infatti, qua hanno ottenuto anche un punto, un punto che l'anno scorso, era arrivato soltanto in Australia, e qui vediamo, che il gap da fine gara, leader, è stato di 89,7 secondi, qua, mi permetto di dire, che ho sbagliato, perché, è lo stesso identico dato, di un'altra vettura, forse della, forse della McLaren, o dell'Alfa Tauri, ragazzi, ho semplicemente, copiato e incollato, in maniera sbagliata, mentre, effettivamente, il minor gap, dal leader, 89,774, appartiene ad Albon, notiamo come, il miglioramento, appunto, c'è stato, in qualifica, però, siccome ancora, non è abbastanza, in qualifica, hanno perso una posizione, perché tutti hanno migliorato, tantissimo in qualifica, o comunque, chi era già, molto più avanti, ha migliorato leggermente, per stare ancora più avanti, il caso di Alfa Romeo, che ha fatto, 31,4, proprio, qualcosina in più, rispetto a, Albon, tre posizioni guadagnate, invece, in gara, quindi, si dimostra una vettura, migliore in gara, e lo dimostra, la media del passo gara, ragazzi, 1,38,9, e, attenzione, è anche, un decimo, circa, più veloce, rispetto alla media del passo gara, della McLaren, quindi, un Lando Norris, con una media di, 1,39,0, si sarebbe, posizionato, a circa, 6 secondi, da Albono, questo vuol dire, che, tutti i dati, vengono al pettine, se consideriamo i dati come nodi, quindi, un punto guadagnato quest'anno, contro 0, diciamo che, c'è stato, un grandissimo miglioramento, da parte della Williams, che non è, la cenerentola, di questa Formula 1, o, almeno, potrebbe sempre essere, relegata, nelle basse, nei bassi fondi, ma, clamorosamente, ben messa, stavolta, clamorosamente, buono l'inizio, da parte della Williams, bravi. Arriviamo a Mercedes, uno dei tre top team, che quest'anno, sono quattro, pare essere, appunto, così. Ovviamente, abbiamo sia Lewis Hamilton, che George Russell, vediamo che, tutti e due i piloti, hanno migliorato, il pilota, che ha migliorato di più, rispetto, alla passata stagione, è naturalmente Russell, perché, comunque, era la prima, diciamo, la seconda, dopo Bahrain 2020, di Russell, con la, Mercedes, in questa pista, diciamo, quindi, doveva riadattarsi, ed è normale, naturale, che Hamilton, fosse un pelo, più veloce, infatti, il gap, è di nove decimi, e di sei decimi, comunque, il miglioramento della vettura, è i sei decimi, e sei, che, appunto, vediamo, in basso a, in basso a destra, perché, nel 2023, non ha fatto Hamilton, nel miglior tempo, in qualifica, ma l'ha fatto Russell, sempre in Q3, un tempo, che, appunto, è stato di quasi, sette decimi migliori, rispetto alla passata stagione, bravi, che, però, hanno, non ha portato a risultati, ad improvement, ha portato a perdere una posizione, ovviamente, a favore di chi, a Fernando Alonso, signori, con, in verità, signori, anche, alcuni problemini, di passo gara, questo, però, non è successo, soltanto, in qualifica, anche in gara, perché, hanno perso, due posizioni, rispetto alla P3, P4, ottenuto, grazie alla Red Bull, che si è, fermata e tutto, però, comunque, i risultati fattuali, sono quelli, e, i risultati fattuali, del 2023, sono, questi, P5 e P7, P5, quindi, il migliore risultato, ottenuto da Hamilton, i punti raccolti, sono stati, ovviamente, inferiori, da 27 a 16, il gap, precedente, della Mercedes, l'anno scorso, precedente, la safety car, del giro 46, era di 37 secondi, ok, che sarebbero stati, pressa poco, 55 a fine Gran Premio, mentre, minor gap, dal leader, quest'anno, è di 50,977, 51 secondi, infatti, questo andremo a notare, come, in gara, quest'anno, la Mercedes, non ha migliorato, nemmeno di un decimo, circa, niente, il passo gara di Hamilton, dello scorso anno, è uguale, al passo gara di Hamilton, di quest'anno, c'è stata un'involuzione, incredibile, perché, se, in qualifica, hanno migliorato, direi, meno male, in gara, no, perché, il degrado, che questa vettura ha, è così elevato, che, sebbene partano meglio, all'inizio dello stint, poi si perdono completamente, rispetto all'anno scorso, che, quantomeno, erano stabili, quindi, il problema, di Mercedes, è più grave, perché, purtroppo, per Mercedes, e per Ferrari, e per gli altri team, la Red Bull, ha migliorato, la Red Bull, ha migliorato, il passo gara, che aveva ottenuto Ferrari, l'anno scorso, arriviamo alla sorpresa, che dopo i test, non era più, in realtà, tale, ed effettivamente, signori, notiamo una, incredibile, incredibile, veramente differenza, rispetto allo scorso anno, in casa, Aston Martin, dobbiamo prendere i tempi di Lance Stroll, lo scorso anno, l'unico pilota che è rimasto, dal 2022 al 2023, peccato per Vettel, e dobbiamo anche prendere, il miglior tempo in qualifica, dello scorso anno, che però non era di Lance Stroll, ma era di Nico Hülkenberg, infatti, in basso vedete, Hull, però poi, in Aston Martin, in 2023, naturalmente, la migliore posizione, passo gara e tutto, era stata ottenuta, da Fernando Alonso, qualche giorno fa, appunto, in quel di Bahrain, il miglioramento, da un anno all'altro, in qualifica, di Stroll, quantomeno, che era mezzo zoppicante, con problemi al polso, eccetera, è stato di 2,2 secondi, ma, 2,4 secondi, se consideriamo Hülkenberg, con Fernando Alonso, 2,4 secondi, il miglioramento, di questa vettura, con un conseguente, miglioramento clamoroso, nel termine di performance, di distanza, dal leader, signori, pazzesco, non solo, anche nelle posizioni guadagnate, l'anno scorso, Aston Martin, non è arrivata in Q2, quest'anno è arrivata in Q3, e ha guadagnato 12 posizioni, il passo gara, signori, il passo gara, l'anno scorso, era di circa, 2,7 secondi, più lento, rispetto a quello di Ferrari, che costituiva, in 154 secondi, di distanza, cioè, 2 minuti, e, 30 secondi circa, quasi, vuol dire, due giri, dietro, contro i 38 secondi e 6, di Alonso, che ha avuto, tra l'altro, problemi all'inizio, lo sappiamo, e quindi, potevano essere anche, un pelo meno, comunque, sempre intorno al mezzo minuto, hanno guadagnato, 9 posizioni, rispetto alla, gara, dello scorso anno, e hanno guadagnato, 23 punti in più, perché l'anno scorso, erano a quota 0, il passo gara, è migliorato, di 2 secondi e 2, voi avete idea, di cosa vuol dire, migliorare un passo gara, di 2 secondi e 2, vuol dire avere, un'altra auto, e sì, naturalmente ragazzi, hanno un'altra auto, un'auto che ha, filosofia Red Bull, ha filosofia, ovviamente, anche, leggermente di Ferrari, quindi è una vettura, che ha copiato, da una parte e dall'altra, ma bisogna copiare, anche molto bene, per fare questa cosa, diciamo che hanno, veramente, portato qualcosa, che sia, che è più di una semplice copia, signori, cerchiamo di capire questo, l'area che riescono, a indirizzare, al fondo della vettura, è così elevata, che, non è soltanto, non si tratta soltanto, di una copia, anche perché le altre vetture, hanno migliorato, ma non così tanto, inoltre, porta sempre, l'efficienza, incredibile, nel tire management, nel consumo delle gomme, che già l'anno scorso, era stata, e sempre anche, negli anni passati, in Aston Martin, anche Racing Point, eccetera, è sempre stata, una grande forza, della, di questa vettura, riescono, a non far consumare, troppo le gomme, e a non farle, proprio per niente, in realtà, degradare, dunque, questo, è un, grande, grande successo, una grande cosa, che si portano dietro da anni, che quest'anno, ovviamente, fa ancora più, gola, e piacere, visto anche, i risultati, importante, che si capisca, questa cosa qui, inoltre, in alto, abbiamo visto, Lance Stroll, che è arrivata, a 54 secondi e mezzo, dal leader, contro il 38 di Alonso, più o meno, e due decime e mezzo, è stato più due decime e mezzo, al giro, più lento, rispetto al compagno di squadra, che direi, non è per niente male, considerando che si tratta, di Ferrand Alonso, contro Lance Stroll, nemmeno al 100%, direi, molto bene, Stroll, molto bene Alonso, è incredibile, naturalmente, da Stomartin, che chissà, se scala la classifica, che dite, secondo me, scala è come la classifica, arriviamo al penultimo team, presi singolarmente, poi ci velocizzeremo, per quanto riguarda la seconda parte, perché abbiamo tutti i risultati, in classifica, quindi con le posizioni guadagnate, i tempi guadagnati, o persi, eccetera, e abbiamo, Verstappen con Perez, coppia che è rimasta, invariata dall'anno scorso, dagli ultimi due anni in realtà, abbiamo un Perez, che migliora di qualche decimo, di un decimo in più, rispetto alla passata stagione, su se stesso, e con questa vettura, ma guardate il delta, di una vettura, che era già campione, che era già in lotta, in quel di Bahrain, per la vittoria, guardate il delta, 973 millesimi, di Max Verstappen, un secondo migliorato, in qualifica, rispetto all'anno scorso, scusate per la schermata in alto, posizione quali, F1 23, perché era quella di Mercedes, ho sbagliato, semplicemente ragazzi, ho sbagliato, non ho trascritto, tanto Verstappen, ha fatto la pole, dunque non ha nessuno davanti, e Perez è un decimo E3, ecco, quindi ve lo dico qua, ve lo faccio subito veloce, l'anno scorso invece, erano a un decimo, Verstappen dalle Clerc, e a 13,3, Perez, sempre dalle Clerc, con Sainz, in mezzo, l'anno scorso, non hanno finito il Gran Premio, quest'anno P1, P2, il gap, prima della safety car, poi del ritiro più avanti, di Verstappen, era di 4,6 secondi, perché la media, di Red Bull, lo scorso anno, era di 1,378, che due decimi, era due decimi più lenta, rispetto a quella Ferrari, dunque, consideriamo, due decimi per 57, e la media, fa circa, 11 secondi, circa, ecco, la Red Bull era già lì, con tutti gli aggiornamenti, ancora da rifare, anche il fatto, che poi, sono dimagreti, tantissimo, durante il tempo, lo stesso Verstappen, poi poverino, un secondo di delta, però, è inquietante, ed imbarazzante, un secondo, di guadagno, rispetto alla passata stagione, per il team, già campione, costruttore e piloti, vuol dire veramente tanto, una posizione guadagnata, 17 posizioni guadagnate, naturalmente, da un anno all'altro, perché Perez, è stato comunque classificato, in P18, più, poi è arrivato, Verstappen, è 43 a 0, ovviamente, il discorso dei punti, non sono riuscito a fare, però, il giro più veloce, appartenente appunto, come già detto in precedenza, a Wanyu Joe, il dato più emblematico, più imbarazzante, però, riguarda il passo gara, hanno migliorato il passo gara, di circa 4 decimi, e vi dico anche un'altra cosa, Verstappen, ha passeggiato, in ultima parte, di gara, altrimenti, poteva essere, 37 a 2, 37 a 3, più o meno, come passo, questo è inquietante, questo è inquietante, questo fa capire, molte cose, beh, chiaro, non c'erano dubbi, a riguardo, e questo è soltanto conferme, di quanto la Red Bull, sia avanti. E' arrivato il momento, di Ferrari, signori, che mi sono tenuto per ultimo, perché ci sono diverse cose, da dire, allora, un miglioramento c'è stato, da parte di entrambi i piloti, 5 decimi e mezzo, in qualifica, da parte di entrambi, quindi comunque, ottimo, la macchina è sembrata essere buona, sono sembrati essere, tutti e due, molto, molto, molto capaci, ovviamente, Leclerc avrebbe potuto fare meglio, nell'ultimo tentativo, se l'avesse potuto fare, se l'avesse fatto, brava, scelta strategica, scelta non strategica, e noi ci dobbiamo fidare, di quello che abbiamo visto in pista, Leclerc poteva anche sbagliare, il secondo tentativo, quindi, poteva anche rimanere 30 e 0, ma con il teorico di 29 e 7, possiamo anche aggiungerli, se volete, a due decimi, non è un problema, il problema rimane comunque la gara, e in gara a Leclerc, a parte due bloccaggi, la gara l'ha fatta in maniera lineare, fino alla rottura al giro 39, che sia chiara come cosa, attenzione al gap, di fine gara, l'anno scorso, Sainz è arrivata a 6 secondi, ma diciamo che è tutto, ma si è buttato lì, perché tanto c'è stata la safety car, e tutto cose, tanto non ci interessava, ha vinto la Ferrari, no, quindi non ci interessa sapere, quanto arriva l'altra Ferrari, una Ferrari vince, l'altra Amen, Gap finale dal leader, Leclerc, aveva 28 secondi di ritardo, fino al giro 39, mentre il gap di fine gara, di Sainz, è di 48 secondi, di quest'anno, questo vuol dire che, Leclerc avrebbe terminato, circa 37, 40 secondi, perché era 8 secondi avanti, Leclerc, diciamo che, forse stava anche tenendo le gomme, perché, la parte finale, dei giri di Leclerc, prima che si ritirasse, era molto, molto tranquilla, aveva anche gomme più fresche, rispetto a Sainz, e forse avrebbe potuto, tirare un pochino di più la macchina, e infatti, il passo gara, è l'unica volta, che ho fatto un'eccezione, perché si parla di Ferrari, dunque tutti, avete gli occhi puntati su Ferrari, ho fatto un'eccezione, e ho fatto una comparazione, tra due piloti, perché Sainz, naturalmente, ha avuto un ritmo gara migliore, perché ha spinto di più, rispetto alle Leclerc, dato che, senza benzina, naturalmente, nella parte finale, va più forte, rispetto alla parte iniziale, però, indicativamente, Leclerc, aveva un 1,38,1, di potenziale passo gara, anche perché, sarebbe arrivato a circa, con circa 12 secondi di vantaggio, su Sainz, alla fine del Gran Premio, che corrispondono, a due diecimi al giro più veloci, d'accordo? Quindi abbiamo un 38,1, di media passo gara, tenendo appunto, il buon Leclerc, o 38,3 di Sainz, che però, purtroppo, è mezzo secondo, barra sette decimi, più lento, rispetto a quello dell'anno scorso, è l'unico team, che ha proprio peggiorato, il passo gara, ma non di poco, l'ha proprio peggiorato, quindi, sì, se avessero corso, con la F1,75, in Ferrari, avrebbero fatto meglio, quest'anno, questo è un dato inquietante, è un dato che fa riflettere, tantissimo, sul potenziale, di questa SF23, hanno raccolto, molti meno punti, 44, conto 12, hanno anche, ottenuto il giro veloce, l'anno scorso, quest'anno invece, NADA, hanno perso tre posizioni, naturalmente, non sono arrivati sul podio, e, hanno anche, iniziato col piede sbagliato, in qualifica stessa, ecco, la qualifica è l'unica cosa, che forse si salva in realtà, perché potevano essere P2, P3, comunque, erano lì, lì vicino, 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 ma il balzo, che hanno fatto, indietro, in gara, è, veramente, sconcertante, hanno trovato velocità sul dritto, il problema ragazzi, della velocità sul dritto, ve lo dico, tranquillamente, è che, però, poi, hai poca velocità, in uscita dalle curve, quando la gomma tiene, hai, hai velocità, quando invece la gomma non tiene più, la macchina scoda, ed è quello che abbiamo visto, in tutto, l'homeboard, che ci hanno mostrato, di tutti gli homeboard, che ci hanno mostrato, in questi giorni, dai test, della Ferrari, è, ancora più inquietante, il fatto che, in una pista, come Bahrain, dove di base, hai percorso, più chilometri, e più giri, rispetto a tutti i lettori, Gran Premi in calendario, perché in Bahrain, ci ha fatto anche, tre giorni di test, sei arrivato, in questo circuito, con una conformazione, forse non al 100%, aerodinamica, hai provato a fare qualcosa, ma, non ha funzionato, perché il monopilone, ad esempio, non ha funzionato, la vettura era molto instabile, perché l'alettone, posteriore, è instabile, hai perso pezzi anche, hai cambiato la centralina, e forse, un problema, del genere, ti costa, già una pianità, a Jedda, in tutto questo, dobbiamo considerare, che Bahrain, è una pista, diplomatici, sicuramente andrà meglio, per Ferrari, nel corso del, nel proseguo della stagione, già a partire da Jedda, che è una pista, diversa, però il Bahrain, alla faccia di chi dice, che non è una pista, selettiva, ed è una pista indicativa, lo è, e come, perché è una pista, rear limited, va bene, il posteriore, va dove vuole, dopo un po', quindi devi avere, una macchina, molto, molto, molto conservativa, sul posteriore, cosa che nessun team, ha, se non Red Bull, e un pelo Aston Martin, è una pista, dunque, di trazione, la trazione serve, ovunque, ovunque tu vai, hai bisogno di una macchina, che sia, ottima, che trazioni molto bene, e sì, il tracciato abrasivo, come dicevo in precedenza, ti aiuta, all'inizio, e ti toglie, poi tutto, alla fine, il problema, poi, è la costanza, con la quale tu ti porti, appresso queste gomme, e, la Ferrari, già dal primissimo giro, dai primi due, tre giri, aveva perso il DRS, da Max Verstappen, Verstappen, era costantemente, 4, 5, 6 decimi più veloce, all'inizio, per poi arrivare ad essere, 7, 8, 9 decimi più veloce, verso la fine dello stint, questo vuol dire che, anche quando le gomme, funzionano al 100% su una vettura, la Ferrari è molto dietro, rispetto alla Red Bull, e siamo solo all'inizio, il fatto che siamo solo all'inizio, può essere un bene, come può essere un male, però l'anno scorso, il passo gara della Red Bull, andremo a vedere, molto da vicino adesso, con la comparazione, team a team, non ha iniziato con 6 decimi a giro più lento, la stagione, ha iniziato con una bagarre, una lotta, per cercare di vincere già in Bahrain, poi hanno vinto a Jedda, ma d'altronde non sono nemmeno io troppo a parlare, perché sono tutti i dati che ho trascritto, che ho portato, che vi sto portando in questo video, ed eccoci finalmente, alle prestazioni massime ottenute, nel 2022 e nel 2023, in qualifica, con i rispettivi guadagni o perdite, e con la classifica stilata, al primo posto abbiamo la Stone Martin, abbiamo poi seconda la Williams, terza la Red Bull, il che è incredibile, Alpine quarta, quinta Mercedes, sesta Haas, settima la McLaren, solo ottava la Ferrari, nona e decima invece sono le Alfa Tauri, con Tsunoda e Bottas, insomma le Alfa Tauri e l'Alfa Romeo, infatti il miglioramento è di solo un decimo, dell'Alfa Romeo, contro i due secondi, quasi e mezzo, della Stone Martin, qualcosa di incredibile, non solo, perché il secondo posto, che ho ottenuto dalla Williams, è a meno della metà del guadagno, rispetto a quella che ha ottenuto la Stone Martin, quindi vi fa capire quanto hanno lavorato bene, quanto hanno copiato, scoppiazzato quello che volete, ma ragazzi, questo è un dato certo incredibile, pazzesco, un dato però pazzesco, è anche quello di Verstappen, che con la Red Bull di quest'anno, toglie quasi un secondo, quello che dicevo prima, con un incremento di prestazioni, di oltre 4 decimi superiore, rispetto a quello che ha potuto fare Leclerc, sì, abbiamo già parlato del tempo in qualifica, non fatto l'ultimo tentativo da Leclerc, va bene, mettiamo la Ferrari forse come tempo sul giro secco, due decimi migliore, ok, allora si piazzerebbe dietro al Red Bull con 7 decimi e mezzo, anziché 5 decimi e mezzo, facciamo questo, facciamo questo, solo perché, sì, solo perché ci fidiamo di Leclerc, e ci fidiamo della bontà della macchina, oltre che naturalmente all'incremento del grip in pista, e all'abbassarsi delle temperature, va bene, perfetto, e ci tengo a dire un'altra cosa anche, ovvero che le temperature erano praticamente uguali identiche in qualifica e in gara dall'anno scorso a quest'anno, il dato che vince è che Ferrari rimarrebbe comunque dietro di un decimo, due decimi a Red Bull, come miglioramento dalla passata stagione, quindi l'anno scorso Ferrari ha iniziato veramente alla stragrande, quest'anno invece in parecchie difficoltà, con la Red Bull che ha iniziato come aveva finito l'anno scorso, in netta superiorità. C'è però un dato che salta all'occhio, ed è un dato veramente incoraggiante, ovvero che in generale l'anno scorso, dal primo all'ultimo tempo, dei migliori piloti che hanno fatto segnare i tempi con le proprie squiderie, c'è stata una differenza di 2,219, quindi due secondi e due, di differenza dal primo all'ultimo miglior tempo fatto con un team. Quest'anno invece, la differenza in qualifica è stata di solo un secondo e sette, quindi hanno migliorato, diciamo, tutti i team, anche Red Bull che è quella che ha settato il tempo migliore, ma attenzione, perché comunque sia, diciamo che nel complesso, hanno tutti migliorato. Questa è una cosa veramente ottima, fantastica, perché vuol dire che sono un po' più vicini in qualifica, e abbiamo dunque dei tempi molto, 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 molto simili, soprattutto nel, in mezzo alla, alla griglia, con la Stone Martin che ha fatto chiaramente il passo in avanti maggiore, perché vedendo il miglior tempo della quale 2022 è stato proprio il peggiore, ok? Ma grazie anche alla miglior, alla miglioria della Williams, abbiamo una differenza tra il pilota migliore di un team e il pilota migliore del team peggiore, comunque di un secondo e sette, quindi cinque decimi in meno. Grande questo dato, è veramente ottimo, in vista soprattutto del 2024-2025, perché i team lentamente si stanno avvicinando e riavvicinando tra di loro. E questo è un dato che non ho trascritto, ma ce l'ho qui nella mia testa, perché l'ho visto. L'anno scorso ero veramente scettico riguardo alla Top 10 dopo dieci giri, perché il decimo della Top 10, nel campiamo di Bahrain, si era preso 31 secondi. Quest'anno il decimo, nella Top 10 del Bahrain, se ne è presi 17. Quindi dopo dieci giri, non dico che il decimo è nella lotta con il primo, con Verstappen, ma sicuramente il decimo era molto più vicino. Questo vuol dire che tutti i team si sono leggermente avvicinati, anzi, senza nemmeno dire troppo leggermente, anzi, si sono proprio avvicinati, lo noteremo soprattutto con la differenza dell'anno scorso sul passo gara. Questo lo proverò con l'analisi del passo gara dello scorso anno, con quella di quest'anno, che vedrete a breve, è fantastico perché davvero si sta avvicinando a quello che si vorrebbe, ovvero vetture più o meno sullo stesso livello. Ovviamente c'è un abisso, un secondo è un abisso, un secondo e sette è un abisso, però è sicuramente qualcosa che suscita interesse. Se non fosse che purtroppo c'è un team che va oltre tutti gli altri, ed è Red Bull, che ammazza la concorrenza, ed è quello che potrebbe fare nel corso di tutta la stagione, ma potrebbe non farlo. Chissà, naturalmente aspettiamo Jedda, poi l'Australia, poi i primi aggiornamenti, e tutte cose, però questo sembra essere l'andazzo. Un grandissimo gap che si è generato tra il primo e il secondo team, del genere, è difficile da colmare anche grazie al budget cap. Io non voglio darvi false speranze, ma non posso nemmeno dirvi che andrà tutto bene. Questo invece è sempre il dato relativo alla qualifica, con le posizioni del team guadagnato, da ultimo, cioè decimo posto, al primo, quindi l'Aston Martin, che era decimo allo scorso anno come miglior tempo complessivo, si trova al primo posto. Signori, avete idea di cosa voglio dire? Vuol dire aver guadagnato sette posizioni, perché si trova terza l'anno dopo. Red Bull addirittura guadagna una posizione su Ferrari, McLaren guadagna addirittura una posizione, incredibile. Alpine si trova nella terra di mezzo, anche in questa classifica, infatti non guadagna e non scende, non può né scendere né salire. Ferrari, Mercedes, Haas, Alfa Tauri, con Williams, perdono tutti una posizione. Chissà a sfavore di chi, tutte le vetture, eccetto Ferrari, no? Immaginate, immaginate chi è quel team che ha fatto scalare tutti di una posizione, quantomeno. Con l'Alfa Romeo, che a sorpresa, nonostante abbia ottenuto 4 punti, è il team che ha perso più performance, almeno in qualifica. 4 posizioni perse, ragazzi. È praticamente il penultimo team, davanti per 18.000 e basta, a Williams. Questi invece, signori, sono i passi gara del 2022, e del 2023 a confronto per ciascun team, con il guadagno o perdita. Vediamo che al primo posto ancora c'è l'Aston Martin, al secondo posto c'è di nuovo la Williams, al terzo posto a sorpresa c'è la McLaren, che però è ancora in crisi nera. L'anno scorso comunque era messa peggio, ve l'ho già detto. l'Alpine al quarto posto, segue poi l'Alfa Tauri, con l'Alfa Romeo al quinto stesso posto, con lo stesso miglioramento, anche se partivano da una base leggermente diversa. Abbiamo un miglioramento di 4 decimi, del team già più forte, ovvero Red Bull, la Haas solo di un decimo, la Mercedes stabile, come abbiamo visto prima, e la Ferrari, che ha perso 0,7 o 0,5, a seconda di quello che si vuole vedere. Insomma, lo faccio solo per Ferrari, naturalmente. Questo, signori, è un grafico estremamente interessante, estremamente interessante, ma ancor di più lo è il prossimo. Si conferma il trend dell'Aston Martin, che scala la classifica, con 5 posizioni guadagnate, sul passo gara, non era l'ultimo l'anno scorso, sul passo gara, già l'anno scorso, per dirvi, per farvi capire, con la McLaren, che pensate, era penultima lo scorso anno, quindi catastrofe, e quest'anno è ultima, nonostante abbia migliorato di un secondo e mezzo. Avete capito cosa vuol dire questo, ragazzi. Però, la cosa fantastica, è che tutti i team, da Alfa Romeo a McLaren, sono nel giro di tre decimi, quindi, in una gara da 57 giri, tre decimi corrispondono a circa 18 secondi. Vuol dire che, si può arginare questo, in qualche modo, strategicamente parlando, si può lottare, per arrivare davanti all'Alfa Romeo, anche se tu hai una McLaren, questo è quello che voglio farvi capire. Laston Martin, quindi, guadagna 5 posizioni, la Williams ne guadagna 2, sul passo gara, bravissimi, Red Bull guadagna una posizione, Aston Martin, scusatemi, Alpine guadagna una posizione, l'Alfa Tauri, terra di mezzo, non guadagna e non perde, mentre, chi perde sono la Ferrari, sono la Mercedes, perché, ovviamente, è una Mercedes ha perso sull'Aston Martin, e la Ferrari, è a pari passo, in realtà, con la Red Bull, con l'Aston Martin, quindi, diciamo che l'ho messa davanti, solo perché, le Clerc, poteva finire davanti ad Alonso, ma anche Alonso ha avuto problemi all'inizio, quindi, se la sarebbero tanto, tanto, tanto giocata, mettiamo Ferrari e Aston nella stessa posizione, potevano essere più 6 per Aston, e meno 2 per Ferrari, però, rimane così, è chiaro che, se vedi, passo gara a Ferrari 38.1, e passo gara a Aston 38.1, ti fai due domande. McLaren, meno una posizione, addirittura, Alfa Romeo, meno una posizione, e Aston, meno 5 posizioni, voglio farvi notare come, i motorizzati Ferrari, hanno perso tutti delle posizioni, soprattutto la Aston ha perso delle posizioni, la Aston ha perso delle posizioni, ed è nella stessa filosofia, di Ferrari, infatti la Ferrari, consuma gomme, l'Aston consuma un sacco di gomme, l'Alfa Romeo, vettura che ha fatto, una strategia piuttosto diversa, piuttosto alternativa, che ha funzionato con Bottas, ha comunque perso una posizione, sul passo gara, ma è molto vicina ad Alpine, quindi è comunque sia nel complesso, un buon risultato, per il team svizzero, con gli altri team dietro, che sono comunque molto più vicini, questo è un dato veramente fantastico, vedete no, tra Ferrari e Williams, che ci sono 2,9 secondi, e tra Red Bull, 1,374 di passo gara, e McLaren 1,39,0, 1,6 secondi, infatti ragazzi, il dato più incoraggiante, di questa Formula 1, se escludiamo la lotta, per il vertice, è data proprio dalla differenza, di passo gara, e dai miglioramenti, perché l'anno scorso, si parla di 2,9 secondi, più lento, dal primo all'ultimo team, quest'anno, la differenza, dal primo all'ultimo team, è di solo, 1,6 secondi, che è pochissimo, è praticamente dimezzato, questo vi fa capire, quanto hanno lavorato, gli altri team dietro, quanto la Red Bull, non è che possa plafonare, ma comunque, non ha uno sviluppo, così tanto elevato, rispetto a chi è dietro, perché, è già una vettura quasi perfetta, come fai a migliorare la perfezione, loro l'hanno fatto, ma come fai a migliorare l'ancor di più, è quello che voglio farvi capire, mentre chi ha completamente sbagliato il progetto, l'anno scorso, si ritrova con, molto, molto, molto gap, recuperato in gara, che però ancora, non è sufficiente, vedi McLaren, vedi la Haas, che comunque, non ha migliorato, anche, ma vedi la Williams, soprattutto, vabbè, la Stone Martin, che ha fatto, disastro in maniera positiva, ha fatto proprio, un grandissimo passo in avanti, abbiamo anche i punti guadagnati, ho perso nel 2022, e del 2022, l'ho sbagliato ancora, comunque, ho fatto tutto in un giorno, tantissime ore dentro, spero che venga apprezzato, anche se ci sono degli errori, ma verranno risolti tranquillamente, in Jedda, e ora che ci penso, ora che ci faccio caso, ora che ci penso, abbiamo già visto prima, i punti guadagnati, da un anno all'altro, dei rispettivi team, ma se io vi metto, 0 punti contro 23, voi che cosa capite, 0 punti contro 1, voi che cosa capite, 0 punti contro 0 punti, voi che cosa capite, l'abbiamo visto prima, quindi qua, si parla di Aston Martin, Williams e Mercedes, per i primi tre, quindi devo mettere, almeno il logo, delle scuderie, questo è un errore mio, però, tanto la classifica costruttore piloti, l'abbiamo sempre, a portata di mano, basta andare su Instagram, di Formula 1, su qualsiasi roba, anche sul sito di Formula 1, voglio darvi anche, l'ultimo dato di questo video, che giunge al termine, e sono non so quante ore di registrazione, quante ore di studio di lavoro, per questo video, riguardo alla qualifica, la Q1 dello scorso anno, e la Q1 di quest'anno, allora, in telecronaca, si è tanto tanto tanto, parlato di questo incredibile, poca differenza in realtà, tra il primo, ed il quindicesimo classificato, di quest'anno, paragonandola all'anno scorso, in verità, quest'anno, la differenza tra il primo e il quindicesimo, è stata di un secondo e sei, la differenza dello scorso anno, tra il primo e il quindicesimo, è stato di un secondo e tre, quindi, questo vi fa capire, quanto per la Q1, i team di alta classifica, non spingono, a sufficienza, mentre tutti gli altri, sì, ovviamente, chi sa, di non riuscire a passare il turno, e perché i dati, chiaramente, non mentono, e gli ingegneri, che sono all'interno del team, sanno tutto, ma non possono dire niente, però io, personalmente, non ho gridato al miracolo, quando vedevo, così tanto distacco, dal primo al quindicesimo, perché, effettivamente, c'era distacco, più distacco addirittura, rispetto alla passata stagione, quindi, è relativa alla Q1, infatti, i migliori tempi, si prendono per i top team, quando fanno i migliori tempi, soprattutto, nella Q3, e gli altri, si prendono appena si può, quindi, questo è tutto, volevo dirvi anche questo dato, spero che vi sia piaciuto, questo video, spero veramente, che venga visto, spero che venga apprezzato, tutto l'impegno che c'è dietro, tutte cose, e, signori, se avete altre, curiosità, altre cose, da volermi, far, investigare, e scrivetemi nei commenti, uh, è stato un piacere, ragazzi, a presto, ciao!